Oggi l'annuncio ufficiale di Bartolomeo Amidei che passa a Fratelli d'Italia. Come mai? Cos'è successo? È stata una scelta conseguente a delle mie scelte, dettate in primis anche dalla mia posizione che ho preso sulla legge elettorale. Reputo che la nuova legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, sia una schifezza assoluta che ancora una volta sconfessa il cittadino a cui non gli si dà la possibilità di esprimere il proprio candidato, di scegliersi la persona che lo rappresenti. Io credo che sia una cosa inaccettabile e in tal senso non posso stare con chi invece l'ha votata perché sono ancora i partiti che decidono. I cittadini vengono lasciati ai margini come al solito per usare un eufemismo ma di fatto fuori dalle scelte e vanno poi a ricoprire questi posti. I cittadini saranno rappresentati da persone raccomandate, i soliti che fanno politica da professionista per 5, 6, 7 legislature che non hanno mai lavorato nella vita, che sono lì a difendersi il vitalizio. Io credo che sia ora di smetterla e ho trovato nel partito della Giorgia Meloni un ottimo interlocutore perché anche in questo senso lei ha votato contro questa legge alla Camera. Il problema nasce anche a livello regionale dove ci troviamo una Forza Italia che non inclusiva, bensì intrusiva, che ha portato dentro di sé un vice coordinatore regionale del PD, faccio fatica ad accettare, un certo onorevole Causin, francamente piuttosto che un ex leghista, un ex fare Caon e via discorrendo. Francamente ci può stare un passaggio, nel mio caso pensiamo al PDL, semplicemente Forza Italia e AN, io ero Forza Italia e AN, c'è chi di AN è rimasto in Forza Italia e di Forza Italia sono andato in Fratelli d'Italia AN. Quindi, diciamo, è sostanzialmente un ambito di coerenza soltanto che nel caso specifico Fratelli d'Italia rappresenta al meglio quelli che sono, a mio avviso, gli istanze dei cittadini, quegli argomenti importanti che oggi non vengono difesi a sufficienza. Ecco, e questa scelta cosa comporta anche politicamente per lei che è impegnato in Senato e comunque era ex coordinatore provinciale di Forza Italia? Sì, allora, scansiamo subito, liberiamo il campo da equivoci. Io ero coordinatore provinciale di Forza Italia, sono stato l'unico riconfermato commissario provinciale, per cui nessuno mi ha cacciato, sono venuto via io. Credo che la mia storia politica sia di sindaco per dieci anni, consigliere provinciale, ma anche quello che ho fatto in Parlamento in questi tre anni che sono là, possano rappresentare bene il mio pensiero e credo anche quello dei cittadini in primis. Come accoglie Fratelli d'Italia Bartolomeo Amidei? L'accogliamo veramente bene perché è un amico, più che altro è un politico da tanti anni riconosciuto per il suo interessamento del territorio e veramente a me mi dà piacere perché rafforziamo anche il partito in provincia di Rovio, che è già ben rappresentato con le ultime amministrative che abbiamo avuto, dove il risultato nostro sui comuni dove abbiamo corso, abbiamo portato a casa il 10%, con ciò che dire abbiamo consiglieri comunali, assessori, abbiamo consigliere provinciali che sono io che rappresento il partito in provincia, eletto da tutti i consiglieri del Polesine e con il nostro onorevole Sergio Berlato in regione e abbiamo anche il nostro senatore a Roma. Con ciò diciamo che la provincia di Rovigo è ben rappresentata e sicuramente insieme avremo le sinergie giuste per dare veramente risposta al nostro territorio perché proprio Amidei è sempre una persona molto attenta alle problematiche e ogni tanto lo chiamo per altre cose, lui è sempre pronto a rispondermi, se non sa guarda facciamo, cioè a me mi dà veramente forza che il nostro partito in questa provincia avrà un risultato enorme ma non solo in provincia di Rovigo ma anche nel Veneto, visto che abbiamo già due senatori presentati nel Veneto.